Agli inizi del mondo c'era solo acqua. Uimeime Ouan, il grande capo lassù, viveva nel cielo tutto solo. Quando decise di fare il mondo, scese in luoghi dove l'acqua è poco profonda e cominciò a prendere grandi manciate di fango, che divennero la terra ferma. Fece un mucchio di fango altissimo, che per il cielo diventero duro e si trasformò in montagne. Quando accadde la pioggia, questa si trasformò in ghiaccio e neve sulla cima delle montagne. Un po' di quel fango si curì e divenne roccia. Il grande capo lassù fece crescere gli alberi sulla terra ed anche radici e bacche. Ciò che accade alla terra accade ai figli della terra. Non è la terra che appartiene all'uomo, ma l'uomo alla terra. Tutte le cose sono unite tra loro, come il sangue che lega una famiglia. Ciò che accade alla terra accade ai figli della terra. Non è l'uomo che ha presunto la radiatela della vita. Lui ne è solo un figlio. Ciò che fa una radiatela lo fa a se stesso. Così recita la preghiera degli indiani Yakima, nel rispetto della terra. Bisogna a tutti. Bisogna a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.